ecco ragazzo ah ragazzi scusate adesso ritornando qui potete vedere connessione usb digital comics vabbè scusate altre cose però dal browser come si può dire aspettate che lo trovo subito a presto scusate adesso vi ripeto come dovete fare così impostazione di riproduzione remota ecco qui io già ce l'ho hozzipot dire registrata ecco 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 allora ragazzi poi siccome io non ho niente sulla Playstation 3 di video, musica e questo qua no scusate forse devo avere qualcosa nella musica vediamo comunque la musica rimetterla qui dovrebbe riportarla nella PSP allora ragazzi grazie a tutti ed alla prossima ecco